Allora, eccoci tornati, seconda parte di A Tempo di Atletica, sedicesima puntata stagionale, andiamo ad accogliere, a salutare gli amici del gruppo podistico Parco Alpi Apuane, team Eco Verde. Andiamo a salutare Andrea Cavallini, buonasera Andrea, e Roberto Gianni, buonasera Roberto. Considerando che la settimana prima era incerta la mia presenza, va bene, va bene così. Ti fa rabbia perché tu ci hai sempre detto che però questa è la tua... Sì, ma fa parte del gioco, nel periodo in cui si allena tanto è facile che poi qualche problema... Sentivamo prima anche i ragazzini della Virtus, anche loro che avevano avuto qualche problema, però bisogna avere pazienza a certe volte capire che... E poi le gare sono tante durante l'inverno, quindi va benissimo lo stesso. Le prossime per te quali saranno? Io fra due settimane comincio a fare altri campestri un po' più corti in preparazione anche della prossima di Empoli. Quindi Empoli il 24 febbraio? Il 24 febbraio di Empoli tra quelle più importanti. Senti, otto titoli consecutivi, anche se il Presidente adesso farà tutti gli scongiuri che ci stasera... Come la Juve! E lo dico a uno che non è proprio juventino, no? No. Sei difenderista? Sì. No, mi raccontavo una cosa e poi dobbiamo chiudere. Tu Roberto non mi ricordo se hai... No, il calcio io... Sono tifoso delle sorelle Fanchine. No, non mi ricordo. Non mi ricordo è completo. Grazie a tutti